dell'interpretazione rossiniana, poi Donato Renzetti e Michele Mariotti legati oltretutto da anche vincoli particolari di amicizie in qualche modo di rapporto maestro allievo, ci è gravita appunto per discutere di un tema piuttosto intrigante e in fondo così un po' attento più a latere di quella che è il discorso in generale sulla produzione operistica di Rossini. La Missa di Gloria è un'opera appunto che Rossini compone per Napoli a seguito di un apprendistato comune a tutti i compositori dell'epoca, cioè l'apprendistato presso appunto Padre Mattei e apprendistato che riguardava proprio lo studio del contrapunto, lo studio dello stile severo e riguardava appunto tutti i compositori dell'epoca alla scuola di Padre Mattei a Bologna appunto cui Rossini attese tra i compagni suoi appunto c'erano Borlanti, Pacini, lo stesso Donizetti studio con Padre Mattei per cui appunto la formazione di un compositore ottocentesco avveniva proprio sulle tracce appunto dello studio dei classici dello studio del contrapunto severo, dello studio appunto del contrapunto tedesco principalmente, dell'opera di Mozart e quindi Rossini appunto dopo questi primi tentativi uno che è un saggio, una messa scritta insieme ad allievi e altri allievi di Padre Mattei all'interno appunto della scuola di Bologna e altre due messe la messa di Milano, la messa di Ravenna, arriva appunto dopo dieci anni a riaffrontare il genere sacro in occasione appunto di una commissione richiesta appunto dall'arciconfraterno di San Luigi a Napoli e compone una grande messa, una grande messa che prevede due tenori, un mezzo soprano, un soprano e un basso un organico sui generis che in qualche modo getta appunto alcuni interrogativi su quale fosse effettivamente la versione originale della messa e in che modo sia corretto appunto oggi affrontare questo brano di musica sacra ma di questo magari parleremo poi più avanti delle possibili due versioni della messa di Gloria. La messa di Gloria è una messa appunto che fa parte di una caratteristica forma di messa italiana, cioè una messa composta solo da Chiglie e Gloria senza appunto i pensi finali. In particolare possiamo dire che è un'opera nella quale Rossini si cimenta con uno stile alla ricerca di uno stile proprio, di uno stile proprio all'interno di un dibattito sulla musica sacra che prevedeva due posizioni contrastante l'idea di una musica che dovesse essere una musica liturgica quindi basata appunto sullo stile severo, contrappuntistico e una musica invece che fosse più aperta anche alle stanze contemporanee e quindi permeata e infeudata da quella tendenza appunto di permeabilità tra musica operistica e musica sacra. Diciamo che questa è la via che sceglie Rossini cioè Rossini nel momento in cui compone opere sacre non sceglie pur lo stile severo su cui in particolare non si sentiva neanche particolarmente ferrato ricordiamo appunto che padre Matteo definiva il disonore della sua scuola contrappuntistica e quindi sceglie uno stile diciamo solenne uno stile che verrà definito quella che è un po' la terza via cioè non uno stile severo, non uno stile prettamente operistico ma uno stile che per tono, per caratteristiche della musica si pone su un livello appunto di granosità ma di solennità appunto peculiare anche ai luoghi di eseguzione. La messa non venne appunto, venne eseguita appunto nella chiesa di San Gervinando appunto e perché appunto la cicofraternità è un luogo troppo piccolo per poter ospitare il pubblico ebbe enormi successo, fu accompagnata dall'esecuzione dello Stavart Mater di Pergolesi riorchestrato e rinvigorito sin alla parte dei fiatri da Paesiello e accompagnata anche appunto da altra musica. Queste testimonianze ci vengono da un particolare, da un compositore sassone tale von Miltitz, il quale definì l'opera in modo così piuttosto critico una sorta di ragù rossiniano, di frasi rossiniane alludendo al fatto che Rossini aveva, era ricorso anche in questo caso a autocitazioni piuttosto che addirittura al concorso di un altro compositore, Pietro Raimondi per la composizione dell'ultimo brano della Messa di Gloria. La spiegazione di questo apporto che è stato messo in luce da uno studioso americano Jesse Rosenberg già dal 92, può essere stato causato sia dalla fretta appunto Miltitz ci dice che la composizione della Messa occupò due giorni per cui appunto un tempo come al solito rossinianamente straordinario e allo stesso tempo appunto un'altra spiegazione può essere proprio questa debolezza di Rossini nello scrittere, nell'affrontare un contrapunto severo anche se poi la composizione dello Stabat Mater, dell'Apetit Messolennel vedono Rossini alle prese con fugue di anche proporzioni e così è perfettamente a suo agio nel padroneggiare questo stile diciamo che forse l'affrontare questo stile severo a Napoli in un contesto nel quale alla presenza appunto di compositori come Zingarelli anche che avevano una solidissima tradizione di scrittura contrapuntistica appunto lo stesso Raimondi probabilmente potrebbe avere indotto Rossini cautelativamente a ricorrere a un personaggio più forse dotato di lui nella scrittura di questo stile appunto la permeabilità di questi due stili cioè l'idea di uno stile severo, di uno stile più drammatico, operistico si evidenzia in numerosi brani della composizione abbiamo detto appunto nella composizione Chiri e Gloria laddove il Gloria appunto include sette brani che sono sostanzialmente delle arie un laudamus che è una classica aria doppia insomma che è un purostino napoletano e arie con appunto strumenti obbligati quali ad esempio appunto il corno inglese che sono una dimostrazione di quale grado di civiltà musicale fosse presente a Napoli negli anni appunto del 1220 quando Rossini appunto quasi a ridosso del appunto del suo appunto con ancora solo due titoli da restituire al grande catalogo rossiniano cioè il momento secondo e Zellmira appunto fa sua e approfitta appunto questo stile strumentale estremamente ricco questa abilità appunto degli strumentisti, dell'orchestra per cui appunto sappiamo che lo stesso San Carlo e tutte le maestranze orchestrali napoletane erano celebri venendo ai nostri illustri ospiti vorrei sentire il parere del maestro Renzetti appunto interno che ha diretto appunto la Messa di Gloria su proprio le peculiarità di questo stile le problematiche che all'interno prete pone lo stile sacro rossiniano intanto buongiorno io oggi sono un po' emozionato per due motivi il primo perché ha detto tutto lei ero preparato quello che aveva detto lei perché come sapete ho dovuto sostituire il maestro Roberto Appado che purtroppo si è fatto male e purtroppo anche veramente che sono qui oggi ma non sto scherzando è come Rossini voleva in fondo no, è chiaro che all'epoca tutti i compositori volevano un po' emulare i grandi classici tedeschi dai del Mozart Mozart è sempre stato l'ombra di Rossini in fondo e in tutte le sue lettere in avanti qui scriveva sempre il grande composito del suo composito del Movese quindi Rossini ha cercato con questa Messa del periodo napoletano di ritornare all'infanzia come diceva la signora che la Messa di Ravenna era un lavoro giovanile quindi non era da considerare ma la difficoltà sta proprio in questo che lui si è fatto anche aiutare da questo Raimondi che era un contrapuntista infatti la parte più debole secondo me della Messa sta proprio nel contrapunto finale nella fuga finale non era un grandissimo contrapuntista mentre la parte diciamo sacra la troviamo moltissimo in tutte le sue opere ho diretto tante opere da cui Bianca Falliero un momento secondo no la Corpuscule Armione una grandissima opera in cui si ritrova un po' qualche cosa anche della Messa i soliti accordi e poi il fatto strumentale il fatto strumentale perché Rossini ha sempre più erigiato la sinfonia in un certo modo delle sue opere iniziali e soprattutto anche nelle cantate che poi le ha rizzera benissimo di me vedremo che la sinfonia è la parte quasi più importante del canto difficoltà sta nel fatto che la tessitura del vocale avete sentito chi è venuto a sentire ieri la Messa è un lavoro di grande classe in fondo perché non si può apprendere magari l'inizio e qui mi ricordo una frase stessa di Rossini con Wagner che diceva dopo che aveva assistito a Loengrin disse maestro Loengrin cosa ne pensa dice sì lui l'opera è interessante bisogna rivederla sentirla una seconda volta per capirla il problema è che io non ritorno una seconda volta quindi non è questo il caso della Messa perché la Messa andrebbe sentita forse anche una seconda volta ripeto io ho studiato in dieci giorni di Rossini Sacro ho fatto poco diretto la Stata Armata dove Mariotti Michele ecco il secondo motivo della mia emozione oggi è che il destino ha voluto che scopo fuori tempo ma non so cosa dire il destino ha voluto che ci incontrassimo oggi io e Michele due parole del talento di Michelino chiamo Michelino perché era bambino lui veniva da bambino mi rubava tutte le bacchette non trovo mai le bacchette ho diretto due spettacoli con le mani perché le bacchette le aveva preso lui quindi io insegno da tanti anni però Michele è un talento straordinario la carriera poi la farà lui non posso fare la carriera di nessuno ma l'emozione è star qui insieme nel festival non parlo di questa mattina nel festival a dirige del proprio due brani così diversi così importanti come quello sacro una cosa invece analizzando un po' il Rossini da me diretto ho fatto solamente lo Stabbermatter lui c'è il maestro Z a mele Z di fronte ma i variotti sanno tutti di Rossini mi inoziona ancora per la terza volta correggetemi se sbaglio maestro lui non ha mai usato l'organo io sono uno dei direttori forse questi italiani ha diretto le opere le ho fatte 90 soltanto il grande del Pantanè ne ha fatte 100 e più 90 opere soltante e quindi tutti gli autori da Puccini a Verdi hanno sempre usato uno strumento che per la sacralità è lo strumento più importante cioè l'organo e Rossini se non sbaglio lo usa solamente nell'ultimo brano suo l'Apetti di Messolene non è vero il Pantanè c'è altre cose ma il Pantanè dice che ci sono altri brani ma lui conosce tutti di Rossini io no però diciamo l'Apetti di Messolene con l'armonio con l'organo dà il senso di sacralità al brano che il compostore voleva scrivere strano che nelle cantate non ci sono ma le cantate a differenza della messa sono abbastanza diverse tra di loro uguali perché la stessa sinfonia è stata trasportata tra di Didone ed Enea mentre il Didone ed Enea è un brano fatto anche da stranieri di Vede di Parsi di Didone e Enea e quindi era un tema di Beth Stasio il testo usato a quel periodo il piatto dell'armonia del come si chiama quel tenore protagonista che aveva quel Blake è molto scolastico infatti allora si usava a dare il miglior allievo dell'epoca di Rossini che era lì e Rossini dava un compito in questo caso di scrivere una cantata e Rossini fece il piatto d'armonia sulla morte di Orfeo però questo si nota ma questo si nota solamente ripeto dirigendo questo brano vedendo che è un po' appiccicato un po' nelle regole stilistiche lo stesso Rossini poi quando lui chiede che chi seguiva le regole d'armonia era un cattivo compositore dopo che lui si è liberato di questo Didone e avete visto la difficoltà di sempre il canto perché queste colorature straordinarie difficili ha bisogno di grandissimi interpreti in questo caso il festival è riuscito a centrare l'obiettivo con la Pratt e con Flores quindi diciamo un modo di scrivere che Rossini hanno già da bambino non so quanti anni avessero Rossini forse 16 anni quando ha scritto le due cantate e nella messa indubbiamente rispetto alle messe non me ne voglio di Rossignani ma rispetto alla messa di Mozart rispetto al Repie rispetto poi al Repie di Verdi sicuramente è un po' inferiore anche perché lui stesso si è fatto aiutare come diceva lei da altri compositori ho studiato ho studiato tutto in dieci giorni quindi era un po' un po' che è un po' che si è fatto e non lo sa tutto e mi parla tutto lui possiamo magari aggiungere un po' scritto della messa una notazione piuttosto curiosa della messa di Gloria riferita alla prima esecuzione il appunto Re Ferdinando quando si rimpossessò nel 1815 del Regno di Napoli dopo la parentesi muraltiana ripristinò quasi tutte appunto le consuetudini teatrali ma fu, scusate le consuetudini religiose in particolare la consuetudine di non avere donne che cantassero all'interno della cappella palatina e questo causò la necessità... se non sbaglio, ho studiato, che la famiglia, non mi ricordo il nome però, c'è stata la famiglia, no, Mirabelli Mirabelli è solo intendente di Palermo, Monbelli, Esther, se non sbaglio, Esther Monbelli che poi cantò quasi parecchie opere di Rossini e quindi lui scrisse per lei perché era protagonista proprio la donna, ecco, di donne sì, nella cantata, mentre invece appunto della Messa di Gloria la caratteristica è stata il ricorso a un castratto cioè Mosè Tarquinio per il ruolo appunto del soprano in un'epoca nella quale appunto trovare i castrati, essendo stata per fortuna bandita appunto alla pratica della mutilazione era estremamente raro per cui appunto Tarquinio e Velluti erano, non sono stati gli ultimi castrati a calcare le scene e il fatto di avere anche due tenori all'interno di questo castra dove invece non abbiamo notizie sul mezzo soprano potrebbe essere un indizio di una riscrittura di Rossini di una versione appunto differente in partitura ci sono due versioni, soprattutto appunto l'idea appunto di che Rossini stesso abbia cercato di risolvere appunto questo problema ma praticamente ricorrendo appunto ai due tenori, alla voce appunto di Tarquinio e ai due tenori che tra l'altro erano Cicimarra e Ormini, non inizialmente come si era pensato Nozzari e David, perché effettivamente nella scrittura della Messa di Gloria ci sono queste due grandi a, grazie a Serguitollis, che hanno tesitura abbastanza differenti le quali forse sono uno straordinario e un talento di Flores ha permesso E come dicevo prima, sono i grandissimi interpreti, perché le due romanze del tenore ma anche il Laudamus della signora Pratt, veramente complicate, forse sono più complicate queste due arie che non chiamavano romanze, che sono tante romanze d'opera Sì sì, sono due appunto, sicuramente appunto il Quittollis ad esempio è un'area in pretto stile operistico e parlando appunto di questa peculiarità possiamo farvi sentire la cabaletta che abbiamo sentito eseguita in modo mirabile ieri pomeriggio appunto da Juan Diego Flores proprio come esempio di contaminazione appunto stilistica e quindi appunto di caratteristica di questo stile appunto pluristilistico che Rossini adotta nella musica sacra è la ripresa della cabaletta e quindi appunto di caratteristica e quindi appunto di caratteristica Grazie a tutti. Ecco, come avrete tutti appunto percepito, è una tesitura interna, ed è il tono, chiaramente una cabaletta che starebbe perfettamente all'interno di un melodrama dello stesso periodo. Ma appunto questa stessa caratteristica, questo stesso stile che un critico come Dortig definì appunto come terza via, proprio all'interno di quello che definivamo, definivamo, i tre stili appunto della musica safra, che cito appunto questo articolo di Dortig del 1839, quindi in un periodo vicino allo Stabat, definiva appunto, teorizzava l'esistenza di tre generi di musica. Il primo, per lo studioso, non può essere ancora arte, bensì forma del culto cristiano, è il chant gregorien o plein chant, cioè il canto gregoriano o il canto piano. Dortig individuava questo come uno dei possibili stili della musica sacra. Il secondo è il genere libero, mondano o profano, cioè un'arte in continuo mutamento e sviluppo. Il terzo appunto è il genere misto, nel quale appunto scrive Dortig, il carattere autentico della musica ecclesiastica si cancella fino a un certo punto, mentre da un'altra parte il carattere di libertà proprio dell'arte profana si limita, per confondersi entrambi in un solo genere che partecipa dell'uno e dell'altro. Genere di convenzione senza dubbio piuttosto che primitivo, ma che non è meno necessario a mantenere l'equilibrio e servire da transizione tra i primi due stili. Questo stesso appunto, l'individuazione del terzo genere, si riscontra anche in un dibattito sulla musica sacra, in cui intervenne niente poco di meno di Franz Liszt, il quale appunto in un suo scritto del 34 che si intitola sulla musica sacra del futuro, scriveva proprio a proposito di questo problema della musica operistica che è eseguita appunto in composizione sacra e allo stesso tempo il problema della musica operistica o di carattere appunto profano eseguita all'interno delle chiese, magari con gli stessi strumenti o anche con gli organi, le famose parafrasi, oppure in alternativa appunto l'idea di una musica sacra che fosse la musica severa e che si appunto rifaceva alla tradizione dei grandi modelli tedeschi. Scrive Liszt, al giorno d'oggi l'altare trema e oscilla, il culpito e le cerimonie religiose sono materia di scherno e di scetticismo e allora l'arte deve abbandonare l'interno del tempio. Per ottenere ciò è inevitabile la creazione di una nuova musica, questa musica che noi in mancanza di un'altra definizione battezzeremo umanitaria, deve essere solenne, vigorosa ed efficace, deve unire in colossali rapporti teatro e chiesa, deve essere contemporaneamente drammatica e sacra. Ecco, direi che questa è una sintesi assolutamente perfetta di quello che è anche una composizione come lo Stabatmatter, che voi sapete è una composizione sulle quali Rossini ritornò dopo una prima versione scritta per l'Arcidiacono di Madrid, Fernandez de Varela, in cui appunto Rossini scrisse sei brani e fece poi eseguire, e fece poi, scusate, completare la composizione da un suo compagno allo scuola di Mattei, cioè Giuseppe Dadorini, e poi lo Stabatmatter in questa prima versione è da un'esecuzione appunto a Madrid, salvo poi venire ripreso dallo stesso Rossini che negli anni 40 appunto completò al posto, scrisse altri, quattro brani in sostituzione di sette composti da Tadolini e fece rappresentare l'opera lo Stabatmatter in una prima versione a Parigi all'interno del Teatro Italiano, per poi essere ripreso negli anni 40, appunto nel 42, nella sala dell'archiginnasio a Bologna, alla direzione, niente poco di meno, che di Gaetano Donizetti. Michele, vogliamo parlare di queste caratteristiche appunto di Sacro e Profano dello Stato? Buongiorno, io sono sempre molto emozionato quando devo parlare di musica perché preferisco sempre farla piuttosto che raccontarla, anche perché non so mai se riesco a tradurre a parole quello che sento nel mio corpo quando poi si crea quel legame magico con i musicisti, con cui poi si deve fare musica. E quando ho saputo che avrei dovuto fare questo incontro con voi, con Donato Renzetti l'emozione divenne terrore puro. Tu l'hai saputo, io non l'ho mai saputo. Si è fatto di tutto per evitare di farlo, ma non ci l'ho mai fatto. Come sempre non mi sono preparato, vedo che in tanti foglietti io mai preparo schemi, anche perché non li so seguire, quindi vi racconterò tante cose in maniera disordinata, abbiate pazienza. Poi vi prego fate domande perché ci aiutano sempre in questi casi. Allora, io mi ricordo una, come avete saputo, io sono stato allievo con tanta gioia di Donato Renzetti e insegnare la direzione d'orchestra è una materia enorme. Non dico che è impossibile insegnare la direzione d'orchestra, ma quello che è facile insegnare è la punta dell'iceberg, quello che tutti più o meno sanno, che fa un direttore, cioè manda tutto insieme, batte il tempo, ma poi c'è nove decimi nascosti sotto l'acqua che tanti ignorano e questo è il difficile del nostro lavoro e che si coglie e si vede soprattutto durante le prove, più che nell'esecuzione stessa. Perché vi sto dicendo questo? Una delle tante cose che ci insegnò a noi lievi messo a Renzetti è che il direttore quanto dirige è solo, nel senso, è un paradosso perché noi non siamo niente senza i musicisti, però allo stesso tempo noi siamo soli e in quel momento noi dobbiamo mettere da parte anche i nostri problemi perché probabilmente a nessuno interessa se noi li abbiamo ma dobbiamo fare buon viso, per cattiva sorte, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Io, quando anni fa morì mia nonna, io sono stato costretto a fare un concerto e a quelle prove, potete immaginare quanto avessi voglia di provare, però allora che adesso probabilmente non mi interessava niente. Infatti, scusa se riusciamo fuori te, è sacro anche quello che stiamo dicendo, è difficile per un maestro proprio questo. I problemi personali sono nostri e capita a tutti nella vita, le vere tragedie, le gioie. Il problema del solista è che il solista si tiene dentro il proprio dolore, la propria gioia, non sa esternare in quel momento. Muore un genitore, tu hai la prova, il concerto e non puoi, e questo è incredibile come se fai capire all'orchestra di tutto stato d'animo, come l'orchestra reagisca in maniera in quel caso negativa o viceversa. Il problema è che hai un lato umano che diventa complicato. Muore un parente, una moglie ti abbandona, non lo so, speriamo di no, mia moglie la no. E quindi di fronte hai magari un professore d'orchestra che ha la stessa problematura, una tragedia. E questa è la cosa più difficile del direttore, questo mi cercavo di dire a loro, però questo è un problema che soltanto facendo questa carriera si può capire. Basta. No, io dicevo questo perché noi viviamo sempre di tanti paradossi. Uno di questi è proprio quello di cui sto parlando. Noi ci ritroviamo nella situazione in cui talvolta dobbiamo accantonare i nostri dolori, le nostre sensazioni, nel lavorare con la comunità dentro cui ci troviamo e però ci sono dei casi in cui noi con questa comunità dobbiamo condividere il tema del dolore. Ecco, che è, insomma, c'è un mondo in mezzo a queste due situazioni. E quindi lo Stabat Mater, noi ci si ritrova, io mi ritrovo dopo qualche anno a affrontare questo capolavoro e mi ritrovo dopo, per me, cinque anni dalla mia prima esecuzione proprio qui a Pesaro a dover parlare di un dolore che per me è completamente rinnovato, che si è rinnovato in questi anni. Ho la fortuna di poterlo fare con una rocchesa con cui ci si conosce a memoria, con cui questi giorni si prova ed è sempre un grande divertimento, un grande gioia perché ci si capisce il volo, proprio si lavora ormai sui dettagli. e probabilmente sono cambiato anch'io, è chiaro, ma io ho completamente ritrovato e riscoperto un'opera che non conoscevo. Io l'ho diretta a Pesaro appunto cinque anni fa, poi la tirassi a Firenze pochi mesi dopo e un mese e mezzo fa mi chiamò Riccardo Schailly e mi diede il suo concerto alla Gewandhaus in Leipzig, quindi potete immaginare che uno dei posti più belli del mondo, una delle orchestre, forse tra le quattro o cinque orchestre, andai a dirigere i pezzi sacri di Verdi e lo Stabatmattr e quindi ci furono cinque anni in mezzo. Possiamo anche dire i cinque anni in cui tu hai diretto Guillaume Tell? Sì, sì, in cui sono cresciuto, sì, sì, comunque, insomma, cinque anni in cui tante cose sono cambiate, si è cresciuti, si è maturati, eccetera, eccetera, ma io ho deciso di ristudiare quest'opera come se non l'avessi mai fatta, come se non avessi conosciuto una nota proprio e ho scoperto, come vi ho già detto, le note le conoscevo, ma ho scoperto un senso completamente diverso, le note sono sempre quelle, ma ho scoperto un significato diverso. Cinque anni fa probabilmente anch'io ero più, adesso mi imbarazza dire che ero più giovane, insomma, io penso che fino a cinquant'anni sarò il giovane maestro, però ero, va bene, ero ancora più giovane, probabilmente in quanto tale ero anche più agitato, magari, no? Volevo tutto subito, come spesso è nella vita, soprattutto per noi musicisti, che tutti vogliamo sempre arrivare prima di tutti, che poi il problema, sappiamo benissimo, che non è, questo è anche facile, il problema è che bisogna poi rimanereci, no? Quindi, stava tornata un'opera completamente nuova per me, ma che cosa è stato, cosa c'è di nuovo? È che quello che ho notato è come se Rossini avesse attuato un progenimento cinematografico, nel senso, noi parliamo, qui si parla del dolore, ma il dolore non è sempre vissuto, è anche raccontato, quindi c'è questa ambivalenza tra essere oggetto della cinepresa e starne dietro. E questo si traduce, si traduce e si deve tradurre nel modo più difficile, per chi, come tutti noi, conosce benissimo il codice rossiniano, noi dobbiamo essere in grado di esprimere questi sentimenti, queste differenze, ma senza cambiare le note, senza cambiare una nota, e le cosiddette, no, Rossini bisogna variare, chi lo dice? Rossini deve essere veloce, chi lo dice? Io ormai lo conosco così tanto, così bene, che mi prendo anche delle libertà, ma che Rossini si deve variare, non è vero, a volte sì, ma dipende sempre come, e il dire Rossini deve essere variato, è come dire che Rossini è debole, che ha bisogno del nostro aiuto, perché da sola questa musica non si regge, e non è vero, e che cos'è che spesso si sbaglia? Si sbaglia nel rendere la coloratura estetica, cioè finessa e non strutturale. Allora, in quest'opera io ho lavorato tanto, sia con l'orchestra, sia con i cantanti, su rendere questo concetto di variazione, ma che non è una variazione di note, ma è una variazione di impressioni, non so come dire, di carattere, di sentimento, perché il soprano che ti entra come una spada, con l'Inflammatus, noi dobbiamo avere la sensazione che è come se fosse lei a bruciare vive in quel momento, però c'è virgola, e lei ripete Inflammatus, e quando lo ripete non è più lei l'oggetto, è dietro la cene presa, lo racconta in dolore. Ecco, questo secondo me è importantissimo, e mi ha fatto cambiare tante cose, tante scelte, e proprio per questo è diventato un dolore meno vissuto da noi stessi, ma più raccontato, filtrato, c'è sempre come una sorta di distacco, e tutto questo secondo me diventa proprio il paradigma della poetica di Rossini. Quindi, questo preferire una realtà filtrata da lui stesso, piuttosto che fotografare la realtà, piuttosto che metterci di fronte alla realtà via le proprie. Due anni fa noi eravamo qui con Vic a parlare del Giontel, e Vic, che sia piaciuto o no lo spettacolo, e Vic disse, perché da me volete le fiume, le colline, sono già della musica, io vi do un'altra cosa, se volete a me, io vi do un'altra cosa, appunto, che piaccia o no. Ma quello che si dice, l'astrazione di Rossini, in realtà è una precisa scelta intellettuale di, molto coerente intellettualmente, ovviamente, perché se no non avrebbe deciso di smettere di scrivere musica, ma proprio questa volontà di vivere la realtà raccontandocela, e non portando ognuno di voi dentro la realtà. Adesso aprirei tante di quelle parentesi, che poi non ne chiudo mai una. Il quartetto, per capirci, probabilmente, testualmente, è il momento in cui, secondo me, c'è più tragicità nel testo, in cui c'è una precisa richiesta di condividere, di fare parte del dolore, tanto è uno strazio vedere, senza poter fare nulla, il dolore altrui. E Rossini scrive una danza, e che, noi potremmo dire, ma perché scrive questa musica? Noi diremo a Lega, no? E poi capiamo che, voi lo sapete benissimo, perché tutti voi conoscete ormai da tanto Rossini, di buffo in realtà non ha un sesso la musica, non ha un, come posso dire, non la si può catalogare, proprio perché c'è un senso che prescinde dal concreto, dal fatto concreto. E tante volte lui aveva in testo una musica che non era frutto di un legame con un preciso testo o con una precisa situazione drammaturgica. Era semplicemente più forte di qualsiasi cosa. Poi c'è sempre quel qualcosa, qui parliamo ovviamente di geni, che riusciva poi a far quadrare tutto alla fine, no? Così, motivo per cui noi ci spieghiamo il fatto che la stessa musica in situazioni completamente diverse funziona benissimo in entrambi i casi. Ecco. E... 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 Altra cosa che mi ha colpito e che ho ritrovato nel... studiando lo Stavart Mater è come lui vive il rapporto con... direi con Dio oppure con... non so, insomma... Sì, con la trascendenza, con qualsiasi cosa ognuno abbia deciso ci sia, no? Sopra di lui. Come lo vive? Lo vive con... un... con grande coraggio e anche questo è lo stesso coraggio che lui ha avuto decidendo di tirarsi fuori e insomma non è... Noi lo abbiamo per scontato ma non è... Immagino, non sia stato così facile per un... per una persona all'apice del successo decidere di smettere di continuare ad avere successo, no? Che sappiamo benissimo che poi non è... il motivo... non è stato la malattia. Bene, lui mette l'uomo e Dio, lo mettiamo l'uomo e la trascendenza chiamiamolo così sullo stesso piano e quindi non c'è una subordinazione non c'è un'accettazione a critica del destino ma anzi l'uomo Rossini decide di non dico di battersi cercando di cambiarlo perché probabilmente nessuno di noi può farlo ma di battersi cercando di far capire le proprie ragioni le proprie i propri diritti come dire, no? Perché noi spesso veniamo adesso qui si generalizza ovviamente ma che si parli di musica che si parli di religione noi spesso siamo vittima di regole di dogmi poi veniamo a sapere perché quella cadenza si fa così perché si deve far così ma perché si fa così ma non è scritto così ma è capitato io quando diresti ecco una delle parentesi poi ricordatevi dove sono fermato allora io incontrai Claudio Abbado Simon Boccanegra Bologna la mia prima inaugurazione Abbado mi invitò a casa sua e io mi sono tolto lo sfizio e gli dissi maestro ma perché la cadenza del soprano si fa così Verdi l'ha scritto in un altro modo e lui mi fa è vero però la cantante aveva delle difficoltà quindi abbiamo dovuto cambiarla ecco le difficoltà di una grande cantante sono diventate delle regole per i posteri e questo perché mai ed è ingenuo ti penso ma perché nell'area di Amelia Verdi proprio scrive questa cadenza in modo che la seconda parte potesse diventare un melisma su una vocale il pianto proprio c'è se noi invece si laviamo la parola si laviamo mettiamo la parola su quel melisma abbiamo solo le note si perde l'effetto del melisma su una vocale perché è quello che fa piacere del pianto quindi la cadenza di Verdi quelle note non sono non erano musicali non parlo per assurdo ma erano teatrali ecco variazioni sì si operazioni ma no avremmo la cadenza ecco sta batmanet anzi i dogmi ecco no no i dogmi erano non eravate erano i dogmi si parla dei dogmi è vero noi noi li subiamo ecco noi li subiamo così come subiamo il fanatismo l'integralismo allora come si è comportato Rossini di fronte a quello che viene passato per quel grande scatolone dentro cui noi si deve essere inquadrati reagendo reagendo come non facendo capire che l'uomo comunque una coscienza ce l'ha una voce ce l'ha e come lo ha fatto nel finale adesso ce l'ho qui insomma nella fuga finale che sembra quasi chiudere il cerchio ritornando a uno stile quasi bacchiano perché quella fuga è ci sento molto bac come ci sento tanto Schubert come ci sento un preverbi che poi sono discorsi stupidi perché è Rossini comunque è sempre Rossini però lui sente l'esigenza alla fine di come dire ritornare alle origini e alla fine c'è quest'ultima ultimo intervento del coro l'ultimo proprio la stretta finale dove la parola in sempiterno in sempiterno viene intonata quasi proprio urlata dai soprani dai tenori con questo salto di ottava e perché lui usa il salto di ottava lui lo usa in altre occasioni la prima mi viene in mente il momento secondo l'aria il coro il coro femminile del momento secondo il salto di ottava non ti dà scampo perché un intervallo di terza lo ribalti a un alter ego come dire l'intervallo di quarta a un alter ego l'intervallo di seconda l'intervallo di ottava non ce l'ha l'intervallo di ottava è solo l'intervallo di ottava e questo ti dà perlomeno mi dà un senso di rabbia di sfogo verso un senso di proprio di ineluttabilità questo è nulla si può fare però ho rabbia nel nel vivere nel dover vivere questo rapporto comunque inevitabile che tutti noi abbiamo con la morte e paradossalmente questo senso così critico questo coraggioso che ha avuto lui e che in qualche modo noi fa in modo che noi ci si possa ritrovare ci dà anche tanta forza tanta speranza quindi paradossalmente quest'opera è così pervasa dal dolore dalla morte che ci dà che in realtà quello che ci resta è il senso della vita l'attaccamento della vita io mi ricordo tanti anni fa quando l'estri Moby Dick e quando chiesero a Dacar ma tu quando hai la balena che ti apre le faute lì davanti tu sei lì e tu hai paura della morte in quei momenti e lui dice ma no io sono i momenti in cui penso alla vita questa è pure la sua risposta e quindi devo dire questo è quello che mi dà che mi lascia dentro lo Stavathwater un senso di di speranza comunque di positività che è poi la stessa sensazione che mi dà la musica di Mahler questi autori in cui la morte è così prevaricante vincolante così presente in realtà proprio per questo ci lascia un significato e un senso opposti proprio quasi quasi contrario che è poi insomma ciò che rende poi queste opere dei capolavori perché adesso insomma nel 2015 queste in maniera molto disordinata scusatemi sono state le mie sensazioni e quello che spero di riuscire a darvi con la nostra esibuzione poi chissà probabilmente si cambierà cambierò così come sono tanto cambiati in questi cinque anni magari continuando spero anche di farlo perché se esistesse una sola interpretazione la musica sarebbe morta bello che sia sarebbe morta quindi e devo dire è anche bello molto divertente come è strutturato il concetto perché c'è questa prima parte dove verranno eseguite per la prima volta penso tutte tutte le danze del Chiontel tutte comprese il che noi si tagliò e comunque abbiamo una prima parte così scoppiettante con il così profusio e insomma poi questa seconda parte invece è molto più intima molto più riflessiva ecco questo è tutto grazie tra 25 anni ci troviamo qui io studierò bene lo Stabal Mater la MES infatti aspetteremo Michele un'esecuzione della Petite Messo Lennel che il maestro Lenzetti diceva suonare a pianforte da ragazzino si grazie insieme nel pubblico qualcuno di voi vuole fare domanda approfittando della presenza di questi nostri più straordinari interpreti se non c'è un'altra prego per tornare al discorso alla messa di Coglia ho avuto un'accezione negativo quando diceva purtroppo aveva i castrati o le diate invece che le tue donne però mi sembra che Rossini riprendesse un po' questo mondo diceva quando scompagherà i castrati scompagherà la musica sacra italiana quindi volevo capire in fase di composizione per queste due voci lui era cioè come si è posto con la preposizione per i castrati e poi per concludere quella serata famosa al San Ferdinando o probabilmente la sinfonia della Cazzalabra con il credo è possibile ricostruirla solo per i brani citanti o anche a livello musicale si potrebbe ricostruire per la magica serata che comprendeva la messa di Coglia come un nucleo centrale che appunto Rossini in qualche modo avesse intrusse una grande fascinazione dalla voce dei castrati cosa nota il maestro Zetta qui presente ha speso nelle nostre numerose appunto anche numerose incontri di cui ci ha onorato in questi anni tante sono state discussioni appunto molto approfondite sulla passione di Rossini per questo tipo di voce e sulla in qualche modo adozione poi di quella del soprano travestì per fare appunto ovviare diciamo alla mancanza dei castrati nella mia appunto intervento non c'era tanto un'accezione negativa quanto la fotografia di una situazione appunto che diciamo di leggi che erano state promulgate e che quindi non permettevano la presenza delle donne non dimentichiamo che questo dibattito sulla assenza delle donne nel appunto dei luoghi sacri come cantanti si è protratta fino anche appunto all'esecuzione della Petite Pessoe Nel ci sono appunto c'è una famosa lettera anche citata da Sergio Ragn nel suo articolo appunto una messa nobile nel quale questa lettera di Rossini Pio IX in cui appunto auspicava il ritorno delle voci femminili per cui appunto la voce del castrato era una voce spesso un po' spiancata per certi aspetti quindi prima a volte quelle risonanze invece anche gravi e appunto di quella tipico colore diciamo che Rossini poi richiederà in molte delle sue nella maggior parte appunto delle sue partiture specie napoletane con una voce ad esempio appunto con tutte le voce appunto dei contralti o sobrani o travestiti la seconda parte della domanda era se si poteva ricostruire allora la messa la situazione delle fonti della messa di gloria è stata discorsa e scoperta da Philip Gossett ritrovando nell'archivio napoletano le parti le parti appunto sia d'orchestra che vocali utilizzate durante la per questa esecuzione con annotazioni autografe per cui appunto ci sono situazioni anche nella musica e in opere precedenti tipo le sonate a quattro in cui certa musica di Rossini c'è tramandata per fonti non di prima mano cioè non autografi ma per fonti manoscritte autografate in qualche modo o appunto contenenti indicazioni autografi che quindi ci fanno ritenere queste come fonti primarie per cui appunto la messa è stata ricostruita su quella base essenzialmente e poi sulla base di una partitura particolare ma di scritto importante che è l'archivio Ricordi di Milano che contiene anche le versioni molte appunto aggiunte e modifiche che furono fatte nel corso appunto di altre rappresentazioni della messa di autografo appunto per la per la messa di gloria esiste solo un foglio del Domine Deus che è conservato appunto il Fond Michot nel conservatorio in Bruxelles nel quale appunto sono presenti questa versione appunto del Domine Deus che attesta questo cambio di attribuzione tra due tenori scusate due soprani e basso a soprano tenore e basso e per cui appunto la ricostruzione effettivamente della parte del contralto se fosse fatto da un secondo o da appunto un travestito un appunto un castrato non non c'è nota insomma e c'è questa appunto incertezza delle due versioni con perché in una cronaca sono testati due bassi ecco per cui appunto è un'indagine che nella futura edizione critica di questa messa bisogna affrontare in modo insomma sistematico prego ci salutiamo grazie di tutti allora della partecipazione e ci vediamo a loro applausi Grazie. 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 Grazie.